Buongiorno, buon pomeriggio, io sono Silvia, la professoressa di lettere e in questo video vado a presentare la figura di Galileo Galilei. Galileo Galilei è una figura importantissima all'interno del pensiero, della scienza e anche della letteratura, motivo per cui lo studiamo anche noi. Galileo Galilei può essere considerato il fondatore della scienza moderna e del metodo scientifico, è stato anche un grande divulgatore della scienza. Infatti tutte le sue opere hanno l'intento di comunicare, di persuadere l'idea, la scienza in generale, motivo per cui tranne il primo, il Siderius Nuncius, tutte le altre sono in volgare. Perché c'è appunto questa idea, questa attenzione nel volere raccontare la scienza anche alle persone melodotte, che non appartenevano al gruppo degli studiosi. Importantissimo andare ad analizzare anche in breve il periodo storico in cui vive, Galileo nasce nel 1564 e morirà nel 1642. E' importante appunto perché è legato ancora alla questione della riforma tridentina, di quello che avviene nel e dopo il concilio di Trento, ma anche in realtà l'ambito della ricerca scientifica aveva già iniziato a farsi sentire. Infatti nel 1543 diventa poi importante la pubblicazione da parte di Copernico, che è un astronomo polacco, del libro che si intitola The Rivoluzionibus Orbium Celestium, quindi sulle rivoluzioni dei corpi celesti, che viene pubblicato appunto nel 1543, legato negli anni in cui si apre il concilio di Trento. E la pubblicazione di questo testo cambia il modo di approcciarsi alla scienza, segna a tutti gli effetti l'inizio della rivoluzione scientifica. Quindi da un lato in un periodo di così grande chiusura, questo così grande controllo da parte della chiesa che aveva fatto il concilio, aveva indetto con un contribunale dell'inquisizione un indice dei libri proibiti, in realtà le idee circolano all'interno del gruppo degli intellettuali e degli scienziati. Il sistema della chiesa infatti era già stato sfidato anche da Giordano Bruno, che viene condannato a rogo nel 1600. Giordano Bruno è stato un grande filosofo, un grande pensatore, un grande naturalista. È il primo che intuisce l'idea di infinito e che l'universo sia infinito e sia in qualche modo stato comunque creato da Dio. Non va ovviamente a rinnegare la potenza di Dio, ma ci dice anche che Dio è presente in ogni cosa, di conseguenza è presente anche nella natura stessa. Il suo pensiero però viene considerato eretico dalla chiesa che appunto nel 1600 lo condannera a morte a rogo a Roma, nella piazza Macampo dei Fiori. Quindi questo è il periodo storico, il contesto storico in cui troviamo Galileo, che appunto nasce nel 1564, l'anno dopo la chiusura del Concilio di Trento e nasce a Pisa. Si dedica allo studio della medicina, ma fin da subito è interessato alla matematica, alla fisica e preferisce escrutare il mondo piuttosto che apprenderlo dai libri. Ed è qui la grandezza di Galileo che introduce in realtà una critica molto forte all'autorità. Cioè cosa vuol dire? Che fino adesso si è imparata la scienza e il sapere molte volte perché è stato detto, i pse dixit, no? Perché l'aveva detto un grande pensatore e di conseguenza l'abbiamo studiato, l'abbiamo appreso e proseguiamo nel trasmetterlo. alle generazioni successive, ma secondo lui questo tipo di sapere è un sapere assolutamente idealizzato e molto sterile perché non si basa su nulla. Secondo lui il sapere e l'indagine scientifica deve muoversi in questo ordine fondamentalmente. Innanzitutto la natura deve essere osservata. Dopo aver osservato la natura si fanno, si formano delle ipotesi che devono essere verificate durante degli esperimenti. Meglio ancora se questi esperimenti possono essere fatti nei laboratori affinché si possono ricreare le condizioni ideali per questi esperimenti e se l'esperimento funziona allora a questo punto si può scrivere una legge, altrimenti bisognerà fare tutto da capo. Questa è la grande trasformazione, quindi questa critica dell'autorità è la necessità di avere degli step, di indagare la natura, fare le ipotesi, esperimenti e alla fine la legge. Galileo si dimostra così bravo che gli viene assegnata una cattedra all'università di Pisa in matematica anche se non aveva mai fatto questi studi, non si era laureato. Da Pisa andrà poi a Padova che apparteneva alla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia risultava essere una repubblica autonoma e un ambiente più stimolante, più creativo e anche geograficamente lontano da Roma che comunque rimaneva al centro della chiesa e dell'inquisizione. E quindi riesce realmente a studiare e a aumentare il numero dei suoi seguaci perché le sue idee si diffondono, hanno un grande seguito, ma insieme ai seguaci inizia ad avere dei nemici soprattutto la chiesa, tanto che verrà denunciato al tribunale dell'inquisizione inizialmente perché ha una relazione con questa donna Marina Gamba con la quale ha avuto dei figli ma non si sono mai sposati, quindi già questo sicuramente è un atteggiamento, un comportamento che non è in linea con quanto definito dalla dottrina cattolica. Si dedica allo studio e anche alla pubblicazione, abbiamo detto che è molto importante la sua idea di divulgazione. La prima opera importante che scrive è il Siderius Nuncius, pubblicata nel 1609. È un'opera questa volta in latino, ma pur essendo in latino ha una grande risonanza in Europa, lo rende famoso in tutta l'Europa. Ovviamente verrà letto soltanto dagli altri studiosi, dagli altri scienziati ma questo fa sì che le sue idee si diffondano e questo punto sarà importante, vedremo anche quando verrà condannato dall'inquisizione perché per quanto lui rinneghi, abbiuri la sua idea ma le informazioni, ormai il suo insegnamento è già stato appreso in Europa. L'opera viene scritta quando si trova a Venezia e di che cosa parla? Parla fondamentalmente del canocchiale di questo strumento usato da Galileo per indagare il cielo e principalmente va a indagare la luna che non viene più considerata piatta, liscia e omogenea come fino a quel momento ma studia e vede delle macchie, dei crateri quindi questa nuova interpretazione, questa nuova indagine che viene fatta sulla natura fa un'analisi sulla Via Lattea, quindi sulle stelle e i corpi celesti e si concentra su Giove e i suoi satelliti che inizialmente vengono chiamati pianeti medicei quindi legati, quindi che vengono in qualche modo dedicati ai signori di Firenze. Questo avviene a Venezia, la sua fama aumenta tanto che a un certo punto verrà ospitato, si trasferisce dal Granduca di Toscana e lavorerà e sarà all'interno della sua corte, qui potrà dedicarsi esclusivamente alla ricerca e allo studio quindi è molto contento motivo per cui lascia Venezia per andare in Toscana ma abbiamo un problema che Firenze è molto più vicina a Roma e di conseguenza inizia a essere più presente anche l'inquisizione intorno alle ricerche che vengono fatte da Galileo e ai suoi studi. Lui continua comunque a studiare, imperterito non si lascia intimorire e spaventare fra il 1613 e il 1615 pubblica delle lettere che poi prenderanno il nome di lettere copernicane in cui va a difendere il sistema eliocentrico e va a analizzare il rapporto tra la scienza e la fede andando a autorizzare la separazione di queste due materie che hanno ambiti completamente diversi gli uni dagli altri. Cosa dice Galileo? Che la scienza è una materia di indagine e di ricerca, deve andare a dimostrare quello che si sta indagando, deve andare a indagare la natura, scoprire il perché della natura, perché avvengono determinate fatti. La religione invece è un dogma, è una dottrina che viene accettata per quello che non bisogna andare a indagare niente, bisogna semplicemente credere, o si crede in Dio o non si crede. Non si può andare a provare scientificamente la sua presenza, quindi dice che hanno degli ambiti completamente diversi, le va a separare e va anche a ricordare che la scienza deve essere laica, quindi deve essere autonoma dall'apparato della religione. Queste lettere vengono dedicate, questi testi vengono dedicati a dei religiosi, questo ci fa, o ci ricorda, non ve l'ho ancora detto, che comunque Galileo era un credente, non era un ateo, non era un eretico, e ha anche, anzi, dei rapporti con delle persone importanti all'interno del clero. Una lettera infatti viene dedicata a questo padre Benedetto Castelli, e un'altra da Monsignor Pietro Pietrodini, e proprio perché ha queste dediche, perché la vera destinataria dell'opera di questi scritti è davvero la Chiesa. Galileo vuole a tutti i costi probabilmente convincere la Chiesa, di quello che sta succedendo, lasciando l'importanza che la religione ha, ma separando la scienza da essa. Continua gli studi e va alla pubblicazione di un'opera importante, che è Il Saggiatore, nel 1623. Il Saggiatore, il titolo deriva, prende il nome da questa bilancia usata dagli orefici, quindi uno strumento molto preciso, molto rigoroso, che vuole essere il simbolo di questa nuova scienza. Galileo pubblica quest'opera nel 23, andando contro un decreto della Chiesa, che nel 1616 vieta di sostenere le teorie copernicane, quindi va contro in realtà un'ordinanza religiosa, e nuovamente va a dare importanza al metodo scientifico. Quest'opera è in latino, così come il latino è sopra i due massimi sistemi del mondo, di conseguenza c'è una divulgazione più grande e più ampia. L'opera viene dedicata al cardinale Maffeo Barberini, che è un suo grande ammiratore, i due si conoscono, e crede che la sua persona possa dare una svolta ai suoi studi, perché questo cardinale verrà eletto pontefici con il nome di Urbano VIII, quindi davvero pensa di poter avere un occhio di riguardo, di poter essere ascoltato, ma in realtà tutto questo non avviene, perché vedremo che verrà condannato dall'inquisizione. Quindi, nuovamente, è importantissimo all'interno di questo testo, Galileo ci ricorda, i sensi, fare delle esperienze, per poi fare delle ipotesi. Città le cose ci dice, no, l'ipotesi deve essere universale, quindi valida per tutti, e per tutte le volte in cui succede questa cosa. Come secondo punto, è necessario fare delle dimostrazioni, cioè applico la tesi a una realtà empirica, quindi posso fare un esperimento, posso enunciare una legge, e l'ultimo punto è fare un esperimento in laboratorio per creare le condizioni più adatte e poi verificare le mie ipotesi ed eventualmente fare la legge. Quindi quest'opera è importante. L'ultima, direi, significativa, è quella che pubblica 1632, appunto, si intitola sopra i due massimi sistemi del mondo, è un dialogo che vuole mettere a confronto la cosmologia copernicana con quella classica aristotelico-tolemaica. È davvero un manifesto che vuole rivoluzionare, rinnovare la cultura e il modo di fare la scienza. L'obiettivo, motivo per cui l'opera è scritta in volgare, vuole divulgarla, è di una lettura anche abbastanza facile, considerando l'argomento molto complesso, è quella di distruggere i pregiudizi e le abitudini della società che si basano sul pensiero aristotelico, cioè la Terra al centro e gli altri pianeti in rotazione. È un dialogo, quindi riprende in realtà una forma tipica dell'umanesimo e ci sono tre personaggi che appunto dialogano gli uni con gli altri. Due sono personaggi realmente, persone realmente esistite, ma non più in vita. Uno è Giovanni Francesco Sagredo, era un nobile veneziano attivo all'interno della Repubblica e vuole rappresentare in qualche modo la persona un po' dilettante che si ha passione di scienza, è semplicemente un curioso, vuole sapere di scienza. Il secondo personaggio è Filippo Salviati, è un fiorentino che era parte, faceva parte dell'Accademia dei Lincei e in qualche modo rappresenta Galileo, lo scienziato più pacato, più autorevole che andrà a enunciare delle nuove idee, ma entrambi questi personaggi, appunto rappresentando la curiosità e la scienza, hanno proprio come denominatore comune l'idea di una libertà all'interno della ricerca, cioè la ricerca deve essere libera dallo stigma della religione. Il terzo personaggio, già dal nome si capisce un po' che tipo è, semplicio, un personaggio inventato, una persona che ha un nome e una visione del mondo assolutamente semplice, un po' in opposizione alla complessità di questo mondo, il nome ci va già a dare qualche indicazione su di lui. Questi personaggi si incontrano e per quattro giornate vanno a discutere di scienza, di filosofia. Nella prima giornata c'è un'analisi filosofica generale, nella seconda giornata c'è una discussione sulla possibilità e le conseguenze del movimento della rotazione terrestre, tutto un pochino a parte dalle maree, dalla questione delle maree. Nella terza giornata abbiamo gli aspetti astronomici e dopo che questi personaggi hanno parlato così tanto, nel quarto giorno in realtà sono tutti confusi e stupiti. Incerti perdono, non so comprendere tal novità, citando. Quindi hanno parlato così tanto che forse non sanno benissimo adesso quale sia la verità. Sono un po' confusi e forse servirebbe del tempo per comprendere bene questa novità, lasciare che venga sedimentata. Questo libro entrerà nell'indice dei libri proibiti e Galileo verrà convocato dall'inquisizione l'anno successivo e condannato nel 1633 perché va contro tutti i precetti della religione e della chiesa. lui è un uomo molto anziano non gli verrà dato insomma la pena da scontare in carcere e quindi potrà passare scontare diciamo insomma questa pena agli arresti domiciliari nella sua casa d'Arcetri che si trova vicino a Firenze. A un certo punto Galileo poi andrà ad abbiurare le sue appunto le sue idee e motivo per cui non viene condannato a morte ma semplicemente a questi semplicemente tra virgolette a questi arresti domiciliari che passerà nella sua casa lontano Firenze anche se rinnega in qualche modo se non prende una distanza dalle sue idee le sue idee ormai è un personaggio assolutamente noto le sue l'idea copernicana e anche la sua sono già diffuse in tutta Europa tanto che nel 38 a Leida vengono pubblicati dei discorsi e questo appunto ci fa capire che il suo pensiero era già presente in tutta l'Europa lui continua a studiare a portare avanti altre ricerche fino alla morte che avviene nel 1642 la chiesa ufficialmente ha quindi condannato la visione copernicana e la figura di Galileo Galilei che verrà riabilitato soltanto nel 1992 da Papa Giovanni Paolo secondo con che darà quindi nuova possibilità e andrà a dare nuovamente importanza a questa figura mentre il copernicanesimo era stato condannato appunto e anche lui questa teoria potrà essere diffusa e soprattutto insegnata a partire dal 1822 quindi questo ci fa capire quanto sia stato forte e radicale il pensiero di Galileo che va davvero insieme agli altri scienziati agli altri studiosi da appunto insieme a Keplero e a Copernico hanno davvero rivoluzionato la visione e l'organizzazione del cosmo il pensiero e le teorie legate sia all'universo ma anche al modo in cui si deve fare scienze tuttora le teorie applicate sono assolutamente valide importantissimo quindi anche il ruolo dello scienziato che ha il dovere di sapere il dovere di indagare quello che la natura appunto cioè che la natura in qualche modo cela e l'uomo poi deve andare a scoprirlo attraverso l'indagine la sperimentazione e poi alla fine una tesi quindi questo in sintesi è il personaggio molto importante di Galileo Galilei spero che il video vi sia stato utile e buono studio di Galileo